E ora spazio a punto e a capo curato dal nostro direttore, tutti a battersi il petto per lo spostamento della data delle elezioni regionali. Sentiamo. Oggi tutti a battersi il petto, tante maddalene pentite, ma in che senso? Perché si sostiene è una spesa in più, sicuramente è una spesa in più, ma la democrazia vuole una spesa in più, anche perché poi quando si fu presentata la mozione di sfiducia al Presidente della Giunta, se fosse caduto allora si sarebbe dovuto comunque andare a votare prima del 4 marzo, ma allora non c'era nessuno pronto a dire però si andranno a spendere i soldi. Oggi invece tutti a battersi il petto per dire si spendono i soldi, c'è troppa povera gente che invece avrebbe necessità di questi fondi per altri motivi. Ma a queste maddalene pentite la domanda è questa. Possibile che fin da tutti questi mesi antecedenti la questione del totovoto per le regionali a nessuno mai sia venuto in mente che c'era gente in Molise che soffriva, che in Molise c'era gente che non aveva un posto adeguato di lavoro. Nessuno mai si è battuto il petto in segno di contrizione rispetto a quando stava accadendo in regione. Oggi invece perché il voto si sposta di un mese, un mese e mezzo, tutti a battersi il petto, tutti a dire che questi soldi potevano andare a quanti stanno in questo momento soffrendo. Sicuramente è giusto, ma lo era altrettanto giusto nei mesi passati quando non c'era il ragionamento del voto. Quando invece c'era la necessità che quando oggi si battono il petto potevano fare invece azioni utili perché quando erano nella sofferenza forse avrebbero potuto ottenere qualcosa. E allora le maddalene pentite lasciano il tempo che trovano e coloro i quali si battono soltanto il petto crediamo che sia ormai un gioco scoperto da parte dei cittadini molisani. Grazie.